Grande successo di pubblico alla prima edizione della competizione automobilistica Special Race Trofeo Contea di Mascali Formula Challenger, che si è svolta ieri sul lungomare di Fondachello di Mascali. La manifestazione organizzata da Alfio Canino, presidente del gruppo Piloti Etnei, ha visto la partecipazione di 50 piloti alla guida di autostradali storiche da competizione Formula Rally, Minicar, Car e Microcar. Il tracciato che si snodava per circa 2,3 km era costellato di ostacoli e birilli, che hanno messo alla prova i piloti che tuttavia hanno dimostrato grande capacità di guida. La manifestazione ha ottenuto un'ottima partecipazione da parte dei piloti e del pubblico accorso da tutto il comprensorio ionico. In considerazione dell'ottimo risultato, spiega l'organizzatore Alfio Canino, conto di realizzare quest'estate notturna, sempre sul lungomare di Fondachello, un'altra competizione simile. Ringrazio, conclude Canino, per la preziosa collaborazione, il comando della Polizia Municipale di Mascali e la locale stazione dei Carabinieri, che per tutta la giornata sono stati presenti alla manifestazione, per mantenere ordine pubblico e sicurezza. Vincitore del trofeo Rosario Alessi, secondo per il mio tempo Alessandro Laspina e terzo posto per Giuseppe Mazzeo. Distintosi fra gli altri piloti, concetto Zammataro, che ha effettuato il percorso realizzando il minor numero di penalità. A tutti i piloti sono stati consegnati delle coppe di partecipazione dall'amministrazione comunale mascalese, guidata dal sindaco Luigi Messina, dall'assessore allo sport Alessandra Mante, dal vicepresidente del Consiglio Alberto Cardillo e dei consiglieri presenti, che hanno sostenuto l'evento, dimostrando, spiega il vicepresidente del Consiglio Cardillo, di essere in grado di realizzare una bella manifestazione in poco tempo e in sicurezza. L'amministrazione ha intenzione di ripetere il successo dell'evento, coinvolgendo anche le frazioni montane, nell'ottica di ottenere una maggiore visibilità del territorio mascalese, che offre ampi spazi e motivi di aggregazione sociale, oltre che una maggiore possibilità di lavoro per i vari esercizi commerciali interessati dalla competizione.